Puoi impostare gratuitamente degli alert per ricevere notifiche sui movimenti di mercato o sugli eventi finanziari e sfruttare il vantaggio di operare prima degli altri. Quando imposti un alert, monitoriamo i mercati per te, permettendoti di gestire meglio il tuo tempo. Al verificarsi di determinate condizioni da te impostate, riceverai un'email o una notifica push che ti permetterà di reagire in tempo reale alle variazioni di mercato. Quindi, come funzionano gli alert? Impostarli è molto semplice. Accedi al tuo conto e apri la piattaforma di trading. Scegli un mercato, clicca Alert e decidi se immettere un alert di prezzo o su indicatore per selezionare le condizioni in cui l'alert verrà attivato. Gli alert di prezzo ti avvisano quando il mercato sottostante si muove di una certa percentuale o di un determinato numero di punti nell'arco di tempo da te scelto. Invece, gli alert su indicatore ti avvisano quando il mercato soddisfa delle specifiche condizioni tecniche. È inoltre possibile ricevere notifiche sui prossimi eventi macroeconomici, come le riunioni della Banca Centrale Europea, e conoscere gli impatti sul mercato. Per attivare gli alert, seleziona la casella dell'evento di tuo interesse nel nostro calendario economico. È sempre il momento di investire con i Turbo 24, disponibili 24 ore su 24, 5 giorni su 7. Prova il conto demo di IG, oppure inizia a fare trading oggi con un conto reale.